Ciao amici, siamo qua insieme al mio amico Fabrizio e siamo a Ecco Papa Giovanni XXIII a Dueville. È stata una mattinata strepitosa, c'è stato un clima, un'energia, un'atmosfera magica. Ed è così che Mattia Catapan e Alvaro D'Alfarra portano la loro energia e supporto ai 21 centri disabili nella provincia Veneta con il progetto Natale per Tutti. Una giornata all'insegna della spensieratezza e anche dello sport. Mattia Catapan, campione di kart cross, unico disabile, capace di competere con i normodotati. Lui che è sempre stato più forte del suo destino e Alvaro D'Alfarra, campione freestyle motocross, che in queste sette giornate regaleranno tante performance agli amici dei centri pronti ad applaudire i grandi campioni. Ma i regali non finiscono qui, un babbo Natale distribuirà agli ospiti delle strutture i tanti doni messi a disposizione dalle aziende a sostegno del progetto. Allegria, divertimento e solidarietà perché, come ricorda Mattia, far del bene è la cosa più bella del mondo. Far del bene è la cosa più bella del mondo. Grazie a tutti e aiutateci ad aiutare. Crossabili! Io!